Salve a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Maria Chiara, una lettrice compulsiva e qui si parla di libri a 360 gradi, libri che leggo, libri che scrivo, libri che vorrei comprare ed è direttamente collegato al mio book blog L'arte dello scrivere forse. Oggi però questo video è un po' speciale perché non vi parlo di una serie di libri, non vi parlo di una lista di libri, non vi parlo di libri che voglio consigliarvi in particolare, ma vi parlo di un piccolo blog nuovo, un piccolo sito che ho deciso di aprire per potervi consigliare in modo più specifico dei libri da regalare. Allora, io personalmente quando si tratta di regalare libri metto sempre davanti le mani, cioè sono sempre molto cauta perché secondo me un libro è qualcosa di molto personale e di molto soggettivo. Quindi io di solito dico alla gente di non regalare libri, ma di regalare altre cose alle persone che amano. Però se sapete che quella persona è un lettore accanito, a cui piace leggere, se sapete che quella persona vuole un libro in particolare o se sapete che quella persona sta cercando proprio un certo tipo di libro, ok? Allora, in quel caso siete liberi. Vi do il permesso di regalargli un libro e ho creato questo sito proprio per consigliarvi delle liste di libri da poter regalare a delle persone con dei gusti precisi. Visto che le feste di Natale si avvicinano e magari vorrete regalare un libro a qualcuno a Natale, mi sembrava il caso di presentarvi questo mio piccolo progetto anche se non è totalmente finito, proprio con un video in questo periodo. Le liste presenti su questo sito sono ancora poche, purtroppo perché il tempo per caricare tutti i titoli che ho a disposizione purtroppo è poco, però ce ne sono già e tra poco uscirà anche una lista proprio di libri natalizi da poter regalare in occasione delle feste di Natale. Ma nulla vi vieta per queste feste di regalare uno dei libri delle altre liste. Adesso in questo video vi illustrerò questo sito che ho creato. Allora, il sito intanto si trova su Blogger come Blog e lo potete trovare all'indirizzo https.chilibri.blogspot.com. Vi lascerò comunque il link a questo sito qui sotto nell'info box e cliccando arriverete qui in questa schermata che potete vedere proprio in questo video. Navigarla è molto semplice, sulla destra potrete vedere che cercherò sempre di mettervi delle offerte interessanti per l'acquisto di libri online, nel caso ci siano appunto dei siti che danno degli sconti speciali in alcuni periodi dell'anno e dopo guardando le etichette potrete navigare il sito anche a seconda dei generi. Libri romantici, rosa, serie tv, key drama, farmacoreane, adolescenti, fantasy, eccetera. E qui nell'archivio vedrete anche i post divisi per mese. Poi qui sotto c'è anche il link al mio blog, l'arte dello scrivere forse, dove invece vi parlo di tutti i libri che leggo. Ma la parte più interessante è sicuramente qui al centro, perché qui si trovano le liste di libri. Cliccando su altri post vedrete anche le altre che non stanno in questa pagina. Il primo post è questo, dove vi spiego perché regalare oppure no un libro a qualcuno. Molto brevemente. Poi ho dedicato un post a possibili libri che potreste voler regalare ai vostri nonni. Nel periodo in cui ho lavorato in biblioteca, ho visto cosa piace leggere alle persone di una certa età, dai 60 anni in su. E questi sono libri che andavano moltissimo in biblioteca. A i nonni piacciono questi libri, ve lo assicuro. Qui potrete anche vedere i link, l'acquisto e anche in breve la trama. Per andare al link di acquisto potrete cliccare o sul titolo o sull'autore o anche sulla figura della copertina del libro. In teoria si funziona. Ecco qui. E potrete comprarlo. Tutti i libri sono disponibilissimi online o nelle librerie. Ho cercato di mettere tutti i titoli che potrete trovare facilmente. Questi, come dicevo, sono divisi anche per nonne e per nonni invece. Ok? I nonni. Poi, altra lista che ho preparato è libri da regalare ai figli adolescenti per farli riflettere. Sempre quando lavoravo in biblioteca non sapete quanti genitori erano in crisi per trovare dei libri che potessero leggere i loro figli e che magari avessero anche un messaggio di un qualche tipo. Non dei semplici libri di intrattenimento ma che avessero anche una certa morale ma messa anche in modo che il libro fosse comunque interessante. Questa è una lista di quei tipi di libri che comunque parlano di problemi legati al suicidio, alla maternità in età ancora scolastica, a razzismo, a bullismo e tante altre cose ma messe in un certo modo in cui non vi accorgete nemmeno che stiamo parlando di quello perché comunque a prescindere sono veramente libri molto molto belli e molto molto godibili. Ok? Che io consiglio a tutti i genitori per i loro figli. Veramente meritano. Poi, altra lista di libri che ho preparato è Libri da regalare ai figli adolescenti che amano il fantasy. Se invece avete dei figli o avete degli amici, giovani, nipoti a cui piace il fantasy, qui c'è una piccola lista di libri interessanti per loro. Ok? Poi, invece, libri da regalare agli amanti delle serie tv Netflix. Se avete qualche amico che è impazzito per delle serie Netflix, qui potrete trovare alcuni libri da cui queste serie hanno avuto spunto. Ok? Per esempio, questo è La svastica sul sole di Philip K. Dick è il libro da cui è stata tratta la serie Uomo nell'alto castello. Questa invece è la serie The Expanse, la serie Dirk Gently Agenzia Investigativa, I Bridgeton, Altered Carbon e The Witcher. Ok? Poi abbiamo Libri da regalare a una ragazza classicamente romantica. C'è una lista di romance che veramente piacciono a tutti. con questi romance andrete sul sicuro. Non ho mai conosciuto qualcuno a cui non siano piaciuti, quindi qua andate a botta sicura. Ok? Libri da regalare invece a una ragazza modernamente romantica, quindi qua stiamo parlando di libri rosa, però contemporanei. Ok? Anche questi andate sul sicuro. Questi invece sono libri da regalare a chi ama i K-drama. Ok? Questa è una lista che vi avevo presentato anche sul mio blog, ma che ripresento anche qui, perché se avete degli amici che amano i K-drama, questi libri sicuramente possono fare per loro. Come vi dicevo, a queste liste di libri già presenti su questo sito si aggiungerà anche una lista di libri natalizi. Ok? Spero che questo piccolo sito che sto preparando vi possa essere utile. Se decidete di regalare un libro, fatelo coscientemente, chiedendo alla persona a cui lo vorrete regalare cosa vuole leggere. Ok? Mi raccomando. E poi magari spulciate le mie liste che trovate qui per vedere quello che potrebbe fare di più al caso suo. Poi, sempre per queste feste natalizie, ho un'altra piccola sorpresa. Ho alcune copie cartacee dei miei romanzi che intendo mettere in vendita a disposizione per voi nel caso vi interessassero. Ok? Le firmerò e le metterò a vostra disposizione in vendita sul mio sito o anche potete chiedermele con un commento qui in calce a questo video. Ok? Nel caso li vogliate leggere. Ho due coppie di piccola vipera. Ok? Due coppie cartacee di piccola vipera. E se volete vi potrò fare anche una dedica personalizzata. Poi ho una coppia di Life for me. Eccola qua. Due coppie di L'Elisir di Mantua che questo invece è un roman storico. Eccolo qui. E contiene due romanzi in uno. E poi ho una coppia di Una star all'improvviso. Ok? Qui sotto nell'info box vi metterò le trame di ogni libro. Se vi interessano contattatemi e sappiate che sono ufficialmente in vendita per queste feste. Se volete reggerlo voi o se magari volete regalarlo a qualcuno per Natale. Qui chiudo questo breve video di servizio. Spero che vi sia interessato. Spero che il nuovo sito che ho preparato vi interessi. Se avete delle richieste particolari e volete che parli di una serie fantasy, fantascientifica, romance in particolare o di un autore in particolare non esitate a chiedermelo. Vi saluto, vi auguro buone feste e vi auguro buona lettura. Se questo video vi è piaciuto cliccate mi piace qui sotto e magari iscrivetevi al mio canale in modo da non perdere i miei prossimi video.